Marisa portami a ballare, al carnevale, al carnevale Di noi purtroppo al momento sta transitando una perturbazione, ma non preoccupatevi perché già da domani sabato la situazione meteo tende a migliorare solamente in nottata al primo mattino qualche pioggia o nel pomeriggio schiarite sempre più acqua e per quanto riguarda domenica tranquilli, il carnevale si farà, infatti vedete ci sarà il sole al più qualche nuve ma nulla di particolare, diminuirà un po' la temperatura, buon divertimento e divertitevi anche per me Marisa portami a ballare, fatti baciare al carnevale, al carnevale